Semplice, noi abbiamo apprezzato molto il lavoro che i nostri dirigenti hanno fatto nel corso di questi 5 anni, adesso credo che si apra una stagione nuova e quindi vogliamo intanto premiare quelle professionalità che vengono dal nostro territorio, che si sono sperimentate in questi anni, che hanno un ottimo curriculum, Piero Ciccarelli è sicuramente uno di questi, uno dei migliori, peraltro siccome vogliamo proprio rafforzare il concetto di area vasta come luogo dentro il quale misurare, lavorare e programmare la sanità del territorio, non dimentichiamoci che l'area vasta di Macerata guidata dal Dottor Ciccarelli è stata quella in cui c'è stata la sperimentazione dell'area vasta, quindi ha un nesso ciò che noi abbiamo fatto e che stiamo facendo, quindi credo che abbiamo scelto la persona giusta e quella che ovviamente può riprodurre su tutto il territorio regionale quei buoni risultati che sono stati conseguiti dentro quell'area vasta di Macerata. Questo è un ragionamento che stiamo facendo in questi giorni, nomineremo poi tutti i direttori di zona, i direttori generali, tutto scade entro il 20 giugno, quindi entro il 20 giugno noi avremo il quadro dirigenziale a regime.